Domenica elettorale in Sud America dove si tengono le elezioni in Ecuador e Perù. Nel primo paese si sono tenuti gli ultimi comizi dei big. Ad ambiri allo scranno più alto del paese sono il socialista Andrés Arauz, che ha chiuso il primo turno lo scorso 7 febbraio con il 32% delle preferenze, un vantaggio notevole sul conservatore Guillermo Lasso, al terzo tentativo per conquistare Palazzo Carondelet, che ha ottenuto il 19% dei voti. Stando agli ultimi sondaggi, Arauz mantiene un vantaggio di circa 7 punti percentuali sul rivale. Resta il partito degli indecisi che potrebbe ribaltare le previsioni. Fine settimana elettorale anche in Perù. Domenica si tengono presidenziali e parlamentari. I pronostici dipingono un clima di incertezza e sfiducia. Infatti sono numerosi candidati accreditati tutti intorno al 10% delle preferenze. Il ballottaggio sembra più che certo tra i candidati anche Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente che è andata vicinissima alla presidenza nel 2011 e 2016. Da più parti si chiede il rispetto dei protocolli di sicurezza. Le elezioni infatti coincidono con una nuova ondata di contagi da Covid-19.